Ciao a tutti amici! Io sono Vanessa e lei è una fanfoglia! E oggi dove andiamo Ani? A comprare la spesa! A comprare la spesa! Andiamo in città! Però già quando è sera andiamo da loro! Esatto, andiamo in città perché ci sono delle bancarelle e speriamo bellissime! Quindi andiamo a dare un'occhiata e vediamo se compriamo qualcosina! Non so di che bancarelle si tratta, lo ha detto il papà! Non è vero, ciao! Sti spettosa! Quindi... Un attimo per le immagini mettere un po' sa... Guardate, io so fare i salti da qui! Niente, non so se è in vena di salti ultimamente! 3, 2, 1... Io so farei salti da qui! Oh, Vanelle, ma quanto ti hanno dato da studiare sto fine settimana? E devi studiare storia, e devi studiare le rette parallele, poi... E abbiamo anche tecnologia... Che pensavo fosse per martedì, e invece no! Domani ti devi alzare alle 8... Perché cosa facciamo domani? Merenda con i nonni! Uh! Dai, però... Guarda che se me lo dai addosso ancora... Merenda con la sorpresa! 3, 2, 1... Dai, no, lo fai! Tieni, stavo a scherzare! Aia! Ma te non sei normale! Allora, stanotte mentre dorme la bastoniamo, eh! Mi fai male! Allora, dammelo che ti faccio capire! Fa male! Tu lo senti leggero, ma è plastica dura! Dai! Ok! Dammi! Girati! Girati! Signorita! Che c'è? Anche voglio salire! Anche io voglio salire! Ciao, mamma! Ciao! Come siete alte! Eh! Sei già arrivata? Ma adesso arriviamo anche noi! E io, ciao! E io? Ah, c'è qui sotto! Cosa c'è? Che foglie! Oh, che meraviglia! Che panorama! Sì, vatti! Finalmente! Cosa c'è? Le cose... Non sono cose! Ma queste sono cose per la cucina! E queste? Quale? Ani! Ah, le mollettine? Sì! Sì, le mollettine sì! Ma di questo... Guarda che devi pagarle! Provalo! Anche io voglio le mollettine! Che bellina! Sembra un coliglietto! Questo qua giallo! Questo qua giallo! No, questo! Questo con l'unicorno? Rosa? Ok! Dai, metti subito il tuo cerchiettino! Ma che bellina! Sei contenta? Beh, un paio di calze antiscivolo si possono anche prendere! Ma che bello, mamma? Allora, c'è la cucina! Che bella! Che bella! Non è piacere! Non è piacere! Non è piacere, ma non è piacere! Ti le prendi subito, eh? Belle quelle, vale! Perché se le do... Sì, un po' di grande! Eh? 10-12 anni! Eh, in effetti sì, sembrano un po' grandi! Siccome è quella, vabbè, si le fanno da donna... Non so che prendere! Dalle 35 fino al 40... Due, quattro anni! Ho fatto la mucca! Quanto cos'è? E questo è un orsetto, un gattino rotto! Questa è? Questa è? Va bene, bellissime! Ma qui è una tua paia anche, no? Vuoi prenderne due paia? Sì, anch'io! Allora, io ho scelto questa... La mucca... E poi cosa puoi prendere? 10-12 anni! E vedi se la trovi della tua taglia! Questa è la tua taglia! Perché lo stesso è la tua taglia! Sì, e io ho scelto questa! Questa è la taglia! È giusta, 2-4, sì! Anche se lei... Va bene così? Sì! È gottissima di questo cecchietto! Ti piace tanto? Amore! Sono belle anche le calze! Sì, anche i fiori! Vediamo, Lavane, cosa fa? Si gratta la schiena! Bisognerebbe comprarlo al papà, questo! Che bella calamita! Cesto di frutta! È una calamita! Bellissimo! Quanti servono per le sedie, ma? Non lo so, le abbiamo finite! Ho comprato una torcia, la vorrei! Ma sai quante torce abbiamo a casa? Tantissime! Ok! Ma le possiamo prendere? Guardate qui i dolcetti! Tu vuoi il panzerotto? Non lo mangi mai il panzerotto quando lo compriamo! Che buono quello! È tutto buono! Cosa degli altri? Io ve lo faccio! Io ve lo faccio! Eh, prendiamo! Mi piace? Sì, molto! E sai cosa ti dico? Che me lo compro! No! Come no? Hai detto che possiamo comprare solo noi le cose! No, non è vero! Posso comprarle anch'io! Un colettino! Non ti piace? No, sì, mi piace! Eh, invece sì, è bello! Ah, nero! Ti piace il chiodino? E ce l'hai a casa, amore! Ti piace rosa? Lo vogliamo provare? Lo provi però, eh! Ah, ma c'è anche la gonnellina! Ma è grosso per lei! No, è perfetto! Ma che bello! Guarda, c'è i rani! Guarda! C'è la gonnellina! E dov'è? Come dov'è? E qua la gonna! Non la vedi la gonna! Ora fai vedere che colore hai scelto! Più che altro la taglia, che era quella giusta! Verde acqua, bellissimo! Verde acqua! Guardate se c'è anche qui la gonna! C'è anche la gonna! E la voglietta uguale! Sì! Sei contenta? E lo metto stasera! Lo mettiamo stasera? C'è anche la cintura! Ma come sei elegante! Sì! Vediamo! Ti vanno? Sì! Sono scomode? E poi un pochino... Esce il piede? È stretto? Se non sei comoda lasciamo stare, ok? Sì, no! Allora, voglio scegliere questa! Azzurra! Questa! Arancione! Bianca! Sì, è verde? Non c'è? Rossa! Rosa, no? Azzurra è bellissima! Blu! Io ho scelto questa! Ok! La vorrei scegliere un'altra! Eh, prendine una! Perché ho paura che per te possono essere grandi, Ani, eh! Prendine una sola! Poi se van bene... Vabbè, dai, Massimo la usi te! Ok, scegli le anche tu! Ah, con! Scegli così! Che colore hai più scelto? Dai, non manca la mia! Rosa e rossa? Sì! Va bene! Due, uno, via! Wow! Ma sei bellissima finalmente con la mascherina! Sta ridendo in verità! Eh? Sta ridendo! Sta ridendo? Ma non me ne ero accorta! Che belline! Ma cosa fanno? Vanno tu e giù? Basta! Cosa ti fanno? Si divertono così stessi! Anch'io la vorrei uno! No! Tanto non le utilizzate! Quattro! Quattro! Ma cosa state mangiando? Eh, me lo piace la nutella! La ciambella la nutella! Ma deve essere buonissima! Buona? Sì? L'abbiamo... L'abbiamo fatta così perché... L'avete divisa a metà perché era troppo! No, perché papà... La leva anche pieta lui! Ah sì, erano rimaste le ultime due! Ma comunque era troppo grande per te! Sì! Vero? Non l'avresti mangiata tutta? No! Va a vedere! Strano che mangiate la nutella! A voi non piace! A te non piace la nutella! Ah, ti piace! Ma sai che non l'avevo capito! Ah! Ok! Bene! A me è rimasta l'ultima ciambellina invece! Buona! L'ultima! Buona! Mi direi che la vuoi te! Ma... È mia! Sì! Vuoi assaggiare? Va bene! Vuoi assaggiare? Ma la so già che me la farai... Ti piace? Cos'è la più buona? La tua o la mia? La mia! La mia! La tua? Quindi questa la posso finire io? Buona! Sì! Dopo andiamo da Laura... Sì! Dopo andiamo da Laura! Ho fatto un po' di ruore! E anche questa sì! Andiamo da Laura! E comunque... Adesso mi cambierò! Perché dopo andiamo da Laura! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Ci mettiamo il vestitino nuovo! Adesso mi cambio tra... 3, 2, 1... Via! Ma questa è una bella! Sei bellissima! Ma guardatela un po' questa signorina! In verità non sono lunghe, sono corte perché ho la giacca! Esatto! Da bene! Allora bimbe, il video finisce qua! Vane, dove sei? Guardate quello che vuoi fare! Se il video vi è piaciuto, attivate la campanella e lasciate un bel like al video! E ci iscriviamo al canale? Di... Vanessa! 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 Vanessa e... Anastasia! E lecca lecca! Il team... Laura! Quindi un bacio! E ciao! Che facciamo presto perché proprio c'è il macchino! Ciao Jack! Ciao Jack! Ciao! Grazie a tutti.